Aspetta, allora inquadriamo l'altra macchina ecologica, la possiamo definire così elettrica? Questa è la vera fuoriserie ecologica, oramai a Hollywood girano solo con queste, le Ferrari e le Aston Martin sono nei garage e girano con queste. Una stupenda macchina e vogliamo dire, ecco, ha oltre 200 km orari, non ha nulla da invidiare agli altri boli di... Avviciniamoci alla macchina, completamente elettrica, certamente un costo un po' maggiore diciamo, ma siamo sui 100.000. 100.000 euro però, insomma, la bellezza dello Spider, questo è Cabrio? Sì, è Cabrio. Quindi prende il nome, dicevamo, dallo scienziato Tesla? Sì, dallo scienziato Tesla che era antagonista di Edison.